Buonasera e benvenuti al telegiornale di Telefriuli. Partiamo dal tema dell'immigrazione. La questione dei flussi dei migranti preoccupa Pordenone, che nell'ultimo anno ha ridotto le presenze di richiedenti asilo sul territorio, ma ora teme che le strategie del nuovo governo possano far risalire i numeri ai livelli del passato. I nuovi flussi migratori preoccupano Pordenone. La prefettura ha certificato al 24 settembre scorso la presenza di 409 richiedenti asilo nel fluglio occidentale, prevalentemente adulti, provenienti soprattutto dal Pakistan. Numeri decisamente in calo rispetto al passato, ma se in città la situazione nell'ultimo anno è migliorata, il sindaco Alessandro Ciriani guarda con apprezzione al futuro, temendo nuovi arrivi in seguito a politiche meno rigide del nuovo governo. La nostra preoccupazione è che queste ondate possano replicarsi sulla scorta di una politica nazionale che francamente è qualche perplessità a destra. Devo dire che noi già quando c'era il ministro Minniti al Ministero degli Interni e poi con Salvini avevamo definito il fluglio giù alla Lampedusa del Nord. Tutti parlavano degli sbarchi o con l'ONG o con i barchini, poco si parlava della rotta balcanica che a fasi alterne portava centinaia di persone tra i nostri confini che sono di fatto un colabrodo. Questo è un po' preoccupante perché ripeto i comuni non sono attrezzati e strutturati per accogliere altre persone. A fronte di 99 richiedenti asilo trasferiti in altre regioni, 87 mandati a Trieste, le domande di rimpatrio assistito però sono state soltanto 9. L'immigrazione è un fenomeno estremamente complicato ed è un fenomeno articolato che va analizzato nazionalità per nazionalità. Ci sono persone più disponibili a rimpatrio di fronte alla constatazione che il loro progetto di vita è fallito in Italia, ci sono immigrati che quando constatano questo vanno verso il nord Europa e ci sono invece coloro i quali non possono rimpatriare perché non hanno direi la struttura culturale per poter fare un'attività, un'impresa nel loro paese. Si pensa all'Afghanistan tanto per dirne una. Però è una strada che va battuta perché se una persona immigrata qui perde il lavoro, non ha sostegno sociale, non ha una rete che lo possa appoggiare e sostenere, probabilmente i soldi che lo Stato o che il Comune spende per dare una mano a questa persona saranno meglio reinvestiti nel suo paese d'origine. Andiamo a San Vito al tagliamento. Nessun rischio di chiusura per il punto nascita. A ribadirlo è stato il Vice Presidente della Regione, Riccardo Riccardi, oggi in visita nell'ambito sanitario sanvitese. Il punto nascita di San Vito al tagliamento non è in discussione. A ribadirlo, durante una visita all'ospedale del Friuli occidentale, è stato il Vice Presidente della Regione, Riccardo Riccardi, che ha sottolineato come, nonostante i cali del primo semestre dell'anno, il reparto non corra rischi. Innanzitutto visitare un'attività importante che si sta facendo in questo ospedale e mettere la faccia rispetto a tutte le indiscrezioni che stanno uscendo al punto di arrivare a imporre ai professionisti di andare sul giornale e a dire che non è in discussione il punto nascita di San Vito al tagliamento. Questo punto nascita che fa un'attrazione del circa il 40%, quindi naturalmente soffre però anche lui rispetto alla riduzione che nel semestre del 2019 ci fa registrare una riduzione del 7% rispetto al 2018. Comunque qui è un elemento questo non è in discussione. Adesso sono venuto a dirlo anch'io, quindi speriamo che tutte le polemiche inutili facciano capire che se uno ha bisogno di prendersi 10 preferenze in più trovi un altro modo perché questo non è un argomento di discussione. Durante la visita Riccardi ha valutato assieme ai sanitari i temi del pronto soccorso e delle degenze. Sì, ho trovato un ambiente molto sereno, composto da professionisti qualificati che sono una garanzia per i cittadini che intendono avvalersi di strutture di qualità come quelle che ci sono. Cercheremo di capire adesso anche rispetto agli investimenti necessari di completare un'attività che comunque mi pare dia grandi risultati. Un disegno di legge per evitare il ripetersi di casi in cui il reddito di cittadinanza è erogato a chi sta scontando una pena per reati gravi. A presentarlo è il senatore pordenonese di Forza Italia, Franco Dalmas. Il principio di partenza, spiega, è chiaro che chi ha commesso reati gravi, in particolar modo chi con le sue azioni ha cercato di sovvertire l'ordine democratico, non può usufruire di trattamenti economici da parte dello Stato che voleva battere finché non ha scontato per intero la pena. Sottolinea Dalmas con riferimento al caso dell'ex terrorista Federica Saraceni che percepisce il sussidio. Il disegno di legge si compone di un solo articolo che modifica la legge che disciplina il reddito di cittadinanza sopprimendo il termine dei dieci anni e introducendo il vincolo della completa esecuzione della pena. Cambiamo argomento col diretti, chiede alla Regione lo stato di calamità per le perdite subite dagli agricoltori da parte della cimice asiatica. Intanto i comuni si schierano accanto all'associazione con apposite delibere contro i danni da fauna selvatica. L'agricoltura è sempre più in ginocchio a causa dei danni apportati dalla fauna selvatica. L'ultima mazzata è quella arrivata dalla cimice asiatica che ha fatto danni in tutto il friuli Venezia Giulia. Per questo col diretti ha chiesto alla Regione che venga decretato lo stato di calamità per dar modo agli agricoltori colpiti di ottenere sgravi sui contributi e la sospensione dei mutui. Una situazione ben nota anche ai comuni del Pordenonese che stanno approvando in consiglio comunale apposite delibere per dare una mano agli agricoltori. Le delibere approvate, oltre che prevedere piani straordinari di abbattimento di alcune specie, cinghiali e corvidi in particolare, che sono ormai fuori controllo e stanno devastando molte coltivazioni, sollecitano la Regione a richiedere l'avvio dell'iter legislativo di revisione della legge negli articoli relativi alla prevenzione, agli indennizi e al controllo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura. Ringraziamo i comuni che hanno accolto il nostro invito, dichiara Matteo Zolin, presidente di Coldiretti Pordenone, a commento del risultato parziale raggiunto. E invitiamo gli altri a discuterne nei prossimi consigli, perché quello della fauna selvatica è ormai un problema di tutti, dell'agricoltura certo, ma anche per tutti i cittadini. È un problema di sicurezza stradale, sanitario e di equilibrio ambientale, conclude. I danni causati dalla fauna sono ormai estesi su tutti i territori. I canali di bonifica sono bucati dalle nutrie, i pascoli, montagne e collinari devastati dai cinghiali che non risparmiano mais e altre culture in pianura. Corvidi colpiscono le coltivazioni, ma anche i nidio e i piccoli di altre specie. Caprioli e cervi entrano nei frutteti. Per non parlare degli attacchi agli allevamenti da parte dell'ultimo arrivato, il lupo. Bisogna inoltre considerare l'effetto non secondario della trasmissione di malattie. La fauna, soprattutto quando le popolazioni sono eccessive, veicola infezioni potenzialmente devastanti per gli allevamenti, quindi la peste suina o l'influenza aviaria. Ci sono aziende agricole esasperate, conclude Zolin, perché non riescono a portare avanti più la loro attività di coltivazione. In molti casi, anche per i danni enormi provocati dalla cimice asiatica. Serve una più efficace azione di controllo della fauna per difendere il lavoro dei campi e nel contempo per tutelare l'ambiente, non per distruggerlo. Passiamo all'economia. Intesa San Paolo e Ascom ConfCommercio, imprese per l'Italia a Pordenone, hanno sottoscritto un importante protocollo d'intesa a sostegno delle imprese, del commercio, del turismo e dei servizi del pordenonese, grazie al quale la banca mette a disposizione degli imprenditori associati una vasta gamma di servizi finanziari e non finanziari. Tra i vantaggi per gli imprenditori del settore sono previsti l'accesso gratuito alla garanzia del fondo, i cui costi sono sostenuti interamente dalla banca, l'assenza di oneri bancari per distruttoria, tassi più contenuti e l'applicazione di un premio fortemente agevolato per la garanzia offerta. Un incontro per festeggiare la fine dei lavori su Via Capuccini. Venerdì 4 ottobre alle 17.30 si terrà una cerimonia per inaugurare la riqualificazione dell'arteria stradale pordenonese. L'iniziativa si terrà nell'area antistante la chiesa dove è in corso la Sagra di San Francesco. La cerimonia alla quale parteciperanno il sindaco e la giunta comunale, che sarà accompagnata dagli ottoni dell'orchestra San Marco, è aperta a tutti i cittadini. Sarà Germania, a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, il filo conduttore del 38esimo anno accademico dell'Università della Terza Età, che si è aperto ieri con la prolusione dedicata allo scrittore cordenonese Renato Appi. Un anno accademico nel segno della Germania. Sarà questo il filo rosso che, a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989, attraverserà gli otto mesi di attività dell'Università della Terza Età di Pordenone. Un'occasione per adentrarsi nella realtà del paese, grazie anche all'aiuto di alcune docenti di lingua e letteratura tedesca che daranno l'opportunità di conoscerne gli aspetti storici, culturali, letterari e artistici. Oltre alla Germania, i corsi dell'Ute riguarderanno anche materie scientifiche come neuroscienze, astronomia, geologia e chimica, la musica con le lezioni del jazzista Bruno Cesselli, l'arte con le lezioni sul Pordenone in contemporanea con la mostra in città e Leonardo da Vinci con gli appuntamenti a lui dedicati che si concluderanno con lo spettacolo dei Papu Leo Genio Multiforme in programma il 9 dicembre all'interno del Festival Internazionale di Musica Sacra. L'anno accademico si è aperto con la prolusione dedicata a Renato Appi, il poeta, scrittore e drammaturgo cordenonese, raccontato dallo storico della lingua friulana Piercarlo Begotti e dallo storico dell'arte Giancarlo Paoletto. Il suo impegno è vastissimo perché per prima di cosa comincia nel suo paese con le rappresentazioni teatrali ma non solo, anche con l'associazionismo, ma poi si allarga soprattutto al teatro. È tra i fondatori oppure il fondatore dell'associazione della prosa cordenonese, poi dell'associazione teatrale friulana, organizza anche le rappresentazioni del teatro Verdi, diventa vicepresidente della società filiologica friulana, dell'ente friuli nel mondo, degli emigrati. È molto attivo nell'associazionismo e soprattutto è uno che sa dirigere ma sa soprattutto coinvolgere. Domenica 6 ottobre Pordenone diventa la capitale del gioco grazie all'iniziativa Ludobus sì. Una giornata completamente dedicata ai giochi, quelli semplici e in legno, per far trascorrere del tempo insieme a bambini e genitori. Con questo spirito e grazie alla cooperativa Mela Arance e al Comune arriva per la terza volta a Pordenone domenica 6 ottobre Ludobus sì, la diciassettesima festa nazionale del gioco itinerante. Accoglieremo quest'anno undici ludobus un po' da tutta Italia con tutte le loro caratteristiche e i loro giochi che portano dal proprio bagaglio culturale anche della regione, principalmente tutti costruiti a mano e dedicati a tutte le famiglie e tutte le fasce d'età dagli 0 ai 99 come si suol dire. È bello poi da noi operatori poter osservare queste situazioni di gioco che magari non abbiamo sempre sotto i nostri occhi e quindi questa è un'occasione proprio per vivere il gioco sano, la condivisione, la relazione non solo tra famiglie, tra nucleo familiare ma anche con altri coetanei che magari non si sono mai conosciuti. Ma le novità in casa Mela Arancia non sono finite. Venerdì 4 ottobre alle 12.30 in Viale Dante sarà inaugurato un nuovo spazio, Civico 17. Aprirà in via Dante 17 appunto ed è uno spazio sperimentale che apriremo per che i genitori e i bambini possano trovare delle varie occasioni di scambio e di formazione, di gioco eccetera. Ci sarà un infopoint per le famiglie e con un progetto che viene finanziato dal Friuli Venezia Giulia e dalla regione offriremo anche un sostegno alle famiglie magari sulla compilazione di moduli, di iscrizioni alle scuole, quindi è un servizio. Noi partecipiamo con ITAC e con il Comune a un progetto Caleidos che è un progetto di contrasto alla povertà educativa e quindi in questa ottica anche l'Associazione Genitori imposterà dei lavori in cui ci saranno genitori e bambini insieme, non solo interventi diretti sui bambini all'interno della scuola. Il notiziario termina qui l'appuntamento per domani sempre alle 20.45. Vi lascio in compagnia di Eletroshock condotto da Alessandra Salvatori e da Daniele Micheluz. Grazie di essere stati con noi e buona serata.